Musica Ben ritrovati con il TG Nord Est di Caffè TV 24. Apriamo l'edizione di oggi con gli ultimi aggiornamenti relativi alle conseguenze del maltempo che sta interessando la nostra regione. Nonostante sembri che le condizioni meteo siano in via di miglioramento, infatti l'allerta prosegue. In queste ore l'attenzione è concentrata in particolare sulla piena del fiume Tagliamento che sta attraversando il territorio di San Michele al confine con il Friuli. Dalla regione è stato confermato proprio nelle ultime ore che i danni maggiori sono stati registrati sulle coste di Jesolo, Bibione, Caorle e Rose dalle violente maree causate dal vento. Nel resto del territorio si registrano principalmente smottamenti e piccole o medie frane ma nel complesso le problematiche sono state fortunatamente inferiori a quelle pronosticate. Quello che si sta verificando in questi giorni è uno scenario già noto, ha dichiarato nel corso della conferenza stampa di stamattina il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che spiega alle precipitazioni, in media sono scesi 150 mm d'acqua in 24 ore, si è aggiunto il vento di Scirocco che spinge il mare verso la costa, mettendo in sofferenza i fiumi che faticano a scaricare. Per fortuna Venezia è salva grazie al MOSE, continua il governatore. Inoltre possiamo dirci soddisfatti per il lavoro fatto a livello regionale, in particolare l'efficienza dei modelli di previsione e l'efficacia dei bacini di laminazione, realizzati negli ultimi anni che accumulano l'acqua abbassando il livello dei fiumi. Ne abbiamo già 10 funzionanti e altri 13 in via di costruzione. Sentiamo. Grazie al grande lavoro dell'Unità di Crisi, della protezione civile e di tutti quelli che hanno lavorato, ovviamente non abbassiamo la guardia, siamo ancora in fase di allerta, fra l'altro anche con degli allarmi rossi, e dall'altro però voglio ricordare che le opere del 2010 che ho messo in cantiere allora, che cubano più di 2 miliardi di euro poi di attività fatte, ci hanno permesso di essere operativi, penso al bacino di Caldonio che abbiamo aperto, Montebello che è stato oggetto di un ampliamento, piuttosto che Muson dei Sassi e molti altri bacini che avevamo a disposizione ma che non abbiamo attivato. Il consiglio ai cittadini, tutti chiedono consigli, il consiglio di stare a casa e non andare sopra gli argini a vedere i fiumi pieni d'acqua perché ricordo che il vero problema non è l'acqua che sormonta l'argine, il problema è che se ne vada l'argine perché la pressione è elevata. Ricordo solo che nel 2010 se ne sono andati 32 argini, se qualcuno fosse stato sopra quegli argini a guardare l'acqua sarebbe morto. Il stato di calamità è dichiarato e ovviamente ho sentito che il Presidente Meloni a livello nazionale fra dichiarare lo stato di calamità e il Veneto c'è a pieno titolo, ho visto considerato quello che è accaduto e sta accadendo. Per quanto riguarda Padova è prevista per le prossime ore una delle ondate di piena del fiume Bacchiglione in cui corso d'acqua risulta già ingrossato dalle forti piogge cadute negli ultimi giorni. A Ponte San Nicolò il livello è arrivato a 2,31 metri, a Bovolenta a 4,11 e tra il Bassanello e Volta Barozzo a ridosso del primo livello di guardia a 10,22 metri. Questa mattina però il Vice Sindaco Andrea Michalizzi in sopralluogo al Bassanello insieme alla Protezione Civile ha rassicurato la cittadinanza. Siamo costantemente in contatto con l'ingegno civile per monitorare le conseguenze di questo afflusso di acqua che nei prossimi giorni scenderà dalla montagna alla pianura attraverso i nostri fiumi. Ho chiesto alla Protezione Civile un pattugliamento degli argini per verificarne le condizioni, in particolare a seguito dello stress che potrebbero ricevere dall'arrivo dell'acqua dopo la siccità dei mesi estivi. Sentiamo. Ora allora le abbondanti piogge di questa notte stanno portando i fiumi ad ingrossarsi per il Bacchiglione che è il fiume osservato speciale per Padova, avremo il transito della piena per il tarto pomeriggio questa serata. Noi comunque teniamo chiusa la porta d'ingresso ai canali cittadini del centro che quindi saranno come dire difesi da quella paradia e la piena transiterà per questo corso, questo canale che è il canale scaricatore che è il nostro principale strumento di difesa. Altre piene significative stanno interessando l'Adige a Verona con un'intensità di 1100 m3 d'acqua al secondo e il Piave a Nervesa della Battaglia e a Ponte di Piave. L'altezza dell'acqua è al secondo livello di soglia, spiega l'assessore alla protezione civile Gian Paolo Bottaccin, quindi molto al di sotto del terzo che era stato superato ad esempio con la tempesta Vaia. Ora i vaccini sono già in fase di scarico, vengono attivati per alcune ore, il tempo di far transitare il colmo di piena è successivamente svuotati. Al termine dell'allerta inizieranno le ricognizioni per quantificare i danni che andranno ad aggiungersi a quelli causati dalle grandinate della scorsa estate che purtroppo non sono ancora stati rimborsati dal governo. Dalla regione è sempre stata infine resa nota l'intenzione di richiedere nuovi fondi nazionali da impiegare per la sicurezza idrogeologica dei territori, le manutenzioni, i lavori per completare gli altri bacini, come quello strategico di Perade e Igai nel comune di Porto Buffolè, proprio per la tenuta del Livenza. L'allarme rosso nel territorio è previsto fino alla mezzanotte di oggi per criticità nei bacini Alto Piave, Piave-Piedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Adige Garda e Monti Lessini. Numerose le forze dispiegate per monitorare le acque venete, tra cui sta risultando fondamentale l'attività dei vigili del fuoco. Ed è stato proprio mentre stava svolgendo il suo lavoro tra Puos d'Alpago e Bastia, in provincia di Belluno, che si sono perse le tracce di Walter Locatello, pompiere di 42 anni, caduto accidentalmente nelle acque del torrente Rui. Stando alle ultime informazioni, parebbe che l'uomo non fosse in servizio, ma stesse aiutando i genitori a posizionare sacchi di sabbia a protezione degli argini del canale Rui, quando è scivolato, venendo trascinato via dalla corrente del fiume in piena, che sfocia nel lago Santa Croce. Spostiamoci ora a Venezia, dove questa mattina il commissario straordinario del MOSE, Elisabetta Spizza, ha nominato i componenti della commissione di collaudo incaricata di verificare e accertare le funzionalità del sistema elettromeccanico a salvaguardia della laguna. Si tratta di un incarico della durata di 22 mesi, durante i quali l'infrastruttura sarà sottoposta a esami approfonditi circa il suo funzionamento, anche tramite stress test e sollevamenti specifici delle barriere alle bocche di porto. I lavori si concluderanno con la presentazione di una relazione finale, la cui consegna è stata fissata per il 2025. La prima seduta è stata presieduta da Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano, e ha visto la presenza di tutti i componenti, tra cui Attilio Toscano, ordinario al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari all'Università Alma Mater di Bologna, Giulio Rosati, professore ordinario al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova, Massimo Sorli, ordinario al Dipartimento di Ingegneria Meccanica Aerospaziale del Politecnico di Torino e Antonio Marcomini, professore ordinario di Chimica Ambientale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. La nomina della Commissione è un passaggio fondamentale del lungo percorso che ha visto la nascita e la realizzazione di un'opera pubblica di primaria importanza per il nostro Paese, ha commentato la Spiz, che sottolinea, per collaudare il sistema di paratoie che protegge Venezia e la sua laguna, sono state scelte professionalità di altissimo profilo ed indubbia competenza in materia. Cambiamo ora argomento per parlare dell'arresto eseguito dagli agenti della squadra mobile della Questura di Padova in collaborazione con la Polizia di Stato di Napoli di un 47enne di Marano di Napoli, già pregiudicato per reati contro il patrimonio e ritenuto responsabile di ben 7 truffe ai danni di persone anziane, tra cui una donna di 101 anni realizzate con l'aiuto di alcuni complici non ancora identificati tra settembre 2022 e marzo 2023. Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'attività di indagine della squadra mobile di Padova, il modus operandi dei malviventi sarebbe stato sempre lo stesso. La vittima veniva contattata telefonicamente da uno di loro che fingendosi carabiniere o avvocato la induceva a credere che un parente fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale e che servisse un aiuto economico per evitare conseguenze penali. A quel punto interveniva un secondo soggetto individuato dai poliziotti proprio nel 47enne che si recava a casa dell'anziano preso di mira presentandosi come collaboratore del finto carabiniere o avvocato per ritirare il denaro di gioielli richiesti a titolo di cauzione. Per l'intera durata dell'operazione la linea telefonica delle vittime veniva rigorosamente mantenuta occupata per impedire che potessero contattare i propri parenti o chiedere aiuto. Nei sette casi contestati sono stati sottratti contanti e gioielli per un valore complessivo di oltre 275 mila euro. L'indagine ha preso avvio a seguito della denuncia risalente a settembre 2022 esporta da una 72enne di Padova. A questa ne sono poi seguite altre perfettamente corrispondenti al profilo descritto dall'anziana signora grazie a una profondita analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadine e private e dei tabulati telefonici oltre ai serrati servizi di osservazione e pedinamento tutto ciò al fine di individuare gli autori delle truffe denunciate gli agenti sono riusciti a individuare il 47enne. A tradirlo sarebbe stato un berretto tipo coppola e degli occhiali da vista e ultima ma non ultima l'identità con la quale si presentava le vittime che pur essendo ogni volta diversa risultava di fatto una storpiatura artistica del suo vero nome. Il malvivente è stato condannato ad osservare la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento nelle ore serali e notturne. È stata invece la Guardia di Finanza di Torino a smantellare due presunte associazioni dedicate al traffico di hashish grazie all'arresto di 13 uomini rintracciati in Piemonte, Veneto e Puglia. Anche in questo caso le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria si sono basate sui dati raccolti da intercettazioni telefoniche ambientali, osservazioni e pedinamenti. Il primo dei due gruppi è risultato avere un'organizzazione ben delineata che disponeva di notevoli risorse strumentali ed economiche e che faceva base a Torino e provincia dove si trovava anche lo zoccolo duro della clientela ma il sodalizio possedeva anche solide ramificazioni in Veneto in particolare nelle province di Venezia e Treviso. La forza economica del gruppo criminale è risultata evidente dalla possibilità di impiegare numerosi autoveicoli di proprietà o noleggiati per il ritiro e il trasporto della droga e del denaro guadagnato con i traffici. La banda riusciva infatti a finanziare nuove importazioni di narcotico e a sopportare le ingenti spese per il suo occultamento e per il trasporto nonostante gli ingenti sequestri di stupefacenti subiti. Il secondo gruppo guidato da un 48enne era sempre radicato a Torino e provincia ma aveva i suoi collegamenti oltre confine in Lombardia nelle province di Milano e Varese e in Toscana nella provincia di Pisa. Stando alle ultime ipotesi investigative si tratterebbe di un'articolazione territoriale dotata di una sua autonomia operativa che farebbe parte di una ben più ampia organizzazione transnazionale operante in Spagna. Nel corso delle indagini, nel solo arco temporale che va da gennaio ad aprile 2022 in provincia di Torino sono stati intercettati e sottoposti a sequestro in più occasioni e anche con la collaborazione della Polizia di Stato circa 460 chili di hashish e circa 500 grammi di cocaina oltre a un chilo di marijuana. È stato presentato questa mattina il nono bosco urbano della città di Padova. La futura area, sempre verde, che ospiterà ben 2.131 nuove piante si trova in via Armistizio di fronte a Villa Giusti dove nel 1918, proprio a inizio novembre veniva firmata quella che passerà la storia come la fine della Prima Guerra Mondiale. Non a caso, il Parco Boschivo è stato intitolato alla pace. L'iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Padova e Arbolia società Benefit di Snam, nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia dà la vita a un bosco urbano in grado di assorbire 260 tonnellate di CO2 e 590 kg di PM10 in 20 anni. Ma sentiamo ora le interviste all'assessore al verde Antonio Bressa e ai consiglieri Chiara Gallani e Marco Concolato. Oggi siamo qui appunto a fare questa cerimonia simbolica in cui piantiamo i primi alberi di questo nuovo bosco urbano un bosco che abbiamo deciso di dedicarlo alla pace. Chi nasce, chi è nato e o cresciuto qui alla Mandia conosce bene l'elemento fortemente identitario di Villa Giusti che ricorda appunto la storia di quello che è successo qui. L'armistizio, i nomi del quartiere riprendono quella storia, la scuola della vittoria e oggi appunto questo elenco di nomi si arricchisce di un altro ruolo appunto al bosco della pace. Sono felicissima di venire portato a complimento questo progetto il nono bosco urbano di Padova, boschi di pianura, quindi alberi che crescono in città, che ci danno ossigeno, che catturano le polveri e che aiutano per esempio anche a trattenere l'acqua. Veniamo da giorni di maltempo, fra virgolette, che anche segno i cambiamenti climatici, è molto importante per il nostro territorio adattarsi, fronteggiare e fermare, cercare di arginare questi cambiamenti. Il progetto prende vita questa mattina con una messa a dimora simbolica che sarà seguita poi dalla prossima settimana con il sistema di regazione e la piantumazione delle prime 2.000 piante, di cui oltre 1.800 alberi e poi il resto in qualità di arbusti. È la prima fase di un progetto che poi potrà, con i finanziamenti delle società che sostengono questa iniziativa, continuare fino ad arrivare a quasi 4.000 tra alberi e arbusti. Veniamo ora alle ultime notizie di oggi per segnalarvi alcuni imperdibili eventi. Verrà inaugurata domani la 39esima edizione di Antiquaria Padova che fino al prossimo 12 novembre permetterà ad appassionati e non di godere di un'esclusiva selezione di oggetti di grande raffinatezza e pregio nel quartiere fieristico di Padova. Antiquaria Padova garantisce da quasi 40 anni un'offerta ampia e variegata in grado non solo di intercettare i gusti e le necessità dei visitatori più affezionati e dei severi collezionisti, ma anche di avvicinare un pubblico che si affaccia per la prima volta all'universo dell'antiquariato. Parte Antiquaria Padova, cosa possiamo trovare qui in fiera? Si può trovare di tutto. Questa è una mostra che nasce nel lontano 1985 e ancora oggi è capace di presentare il meglio dell'arte antica. Il 700 veneziano chiaramente ve lo fa da Parrone, da Ribalte, a Trumont, Mobiletti del 700 che trovano un favore importante. D'altronde l'arte veneta del 700 è molto lineare e essenziale come oggi è nel gusto comune, diciamo, per cui trova molta presa. Non è solo presente il mobile, qui sono presenti oggetti, oro, argento, orologi, ceramiche. C'è una qualità diffusa e soprattutto, diciamo, dal 600 al contemporaneo, 4-12 novembre, padiglione 1. Antiquaria è una delle esposizioni più belle e, vorrei dire, più importante per ricordare la nostra storia, da dove veniamo, le bellezze della nostra terra. Qui dietro di me vediamo Venezia, è un bellissimo riproduzione, è un bellissimo quadro, vediamo i vetri di Murano, tantissime altre cose che ci fanno ricordare da dove veniamo, quali sono le bellezze dei nostri territori, ma ancora di più chi è riuscito e chi le fa. I nostri artisti, gli artisti della nostra terra in particolare, ma diciamo gli artisti veneti e italiani che da sempre fanno sì che la nostra Italia e il nostro Veneto sia tra i primi al mondo come bellezza. Continuano invece gli eventi targati Padova Jazz Festival. Questa sera alle 21, al Centro Culturale San Gaetano di Vialtinate, Olivia Trummer, Luciano Biondini e Nicola Angelucci si esibiranno in una performance imperdibile dal titolo Dialogues Delight. Domani invece, nello stesso posto e alla stessa ora, sarà la volta dell'Emmet Cohen Trio, che vedrà il piano di Cohen intrecciarsi con le note del contrabbasso di Joe Ranieri e della batteria di Joe Farsworth. Infine, domenica mattina, le 11.30, nella bellissima Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, sarà la volta di Peter Ertmans alla chitarra e Erwin Vanna, sax tenore, insieme alla campana tibetana. Loro eseguiranno con passion. Come da tradizione, il festival è interamente seguito, anticipato e approfondito dalla nostra radio Caffè Jazz, insieme a Dario e Nic, che vi illustreranno tutti i prossimi appuntamenti. Allora, abbiamo dei nomi importanti. Ci sono, come sempre, a tenere banco i tre grandi concerti del Verdi. Irene Grandi, che, al di là di quella che è la sua storia più nota, ha radici profonde nel blues. Poi Fabrizio Bosso, uno dei più importanti jazzisti italiani, con un progetto dedicato alla musica di Stevie Wonder. E infine, una leggenda del jazz, uno dei più grandi chitarristi della storia del jazz, Bill Frizzell, con il suo trio. E anche per questa edizione è tutto. Vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti.